I bambini e i ragazzi sono ospiti speciali a bordo delle Navi Costa. A loro sono rivolte tante attenzioni, a cominciare dalle tante attività organizzate appositamente per loro. I bambini possono usufruire della pizzeria, del buffet e di menù studiati per loro. I genitori con figli a seguito possono contare su tante comodità dedicate, come i seggioloni e i passeggini. A bordo vengono organizzate attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Per loro ci sono aree dedicate come lo Squawk Club e la Teen Zone, piscine coperte, scivolo d'acqua, videoproiezioni, feste a tema, sale giochi, eventi serali e tante altre attività per vivere una crociera davvero entusiasmante. Per i ragazzi la Teen Zone riserva attività sportive, speciali serate in discoteca e karaoke. Chi è giovane sulle Navi Costa trova davvero un'infinità di divertimenti. Una crociera Costa è una vacanza speciale proprio per tutti. Costa si impegna al massimo per divertire e coccolare tutti i suoi ospiti, di tutte le età.